oh mamma ragazzi non ci posso credere stito ero a guardare ho visto che io facendo di stavo dicendomi lancia la palla a dosso ho visto che ci sono del 2022 di agosto ottobre settembre stranissimo vabbè lascio stare e comunque forse riprenderò a fare i video nel telefono di mio padre perché io di scritto ne faccio solo nella mia mamma e si chiama Mariana Santullo andatevi a vedere e se vi faccio lasciare un bel like ciao comunque erano del 2022 di agosto ciao non ci posso ancora credere comunque io grazie a tutti